E proprio per... Buonasera e benvenuti al primo appuntamento con la Tribuna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. Oggi ci occuperemo del collegio senatorale di Bressanone, quindi quello della parte nord-orientale della provincia. Ecco, ricordiamo che si tratta di collegi uninominali, quindi esprimeranno un solo senatore, che sarà il candidato che raccoglierà più voti. Oggi abbiamo con noi tutti i nove candidati e anche, anzi, in alcuni casi i loro rappresentanti che si presenteranno. Vado a presentarli. Renate Prader per il Partito Democratico e Italia Democratica e Progressista. Anzais dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Marcus Falck del Movimento 5 Stelle. Rudolf Schöpf del Movimento Vita. Giovanna Valentini, che sostituisce Massimo Rapi del cosiddetto Terzo Polo, quindi Azione e Italia Viva. Poi Maynard Durnwalder per la Sud Tirol for Spartei. Monica Senfter per il Team K. Poi Massimo Bessone, l'assessore Massimo Bessone, che sostituisce Andrea Causin, che è il candidato per la Lega per Salvini. Forza Italia, noi moderati e Fratelli d'Italia. Poi abbiamo Uli Maier, infine, per i Frei Eitlisen. E cominciamo con la prima domanda, che sarà uguale per tutti. Intanto, perché vi siete candidati? Ci interessa sapere perché gli elettori del Collegio di Bessone dovrebbero votarvi e quali sono i principali temi, le cose che vi stanno a cuore, che vorreste portare a Palazzo Madame. Prego, Renate Prader. Buongiorno a tutti. Sono contenta di poter iniziare, ma è ovvio che devo iniziare perché sono il simbolo numero uno. Il mio nome lo troverete come primo nome sulla scheda elettorale. Questo è già un bel vantaggio. Io sono di Bressanone, sono nata di Bressanone, cresciuta a Bressanone e vivo a Bressanone, dove sono sposata con un uomo italiano, un ragazzo ormai giovane di 13 anni, mistilingue. Insegno alle scuole professionali materie economiche perché mi sono laureata in economia e sono anche attiva in politica. Da 12 anni, inizialmente ero consigliera comunale nel Comune di Bressanone e poi da 7 anni in qua. Adesso sono presidente del Consiglio Comunale. Lavoro anche nel volontariato, nel mio tempo libero. La politica per me è anche un po' una questione di cuore perché mi sta veramente al cuore le tematiche che noi come Partito Democratico portiamo avanti. Adesso cito solo qualche punto importante che secondo me sono veramente importanti. Per esempio il salario in più perché in questo momento ovviamente con l'inflazione ogni famiglia fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Poi i giovani ovviamente tutto quello che riguarda le opportunità che dobbiamo creare per loro perché loro rimangono in Alto Adige, in Italia e che poi possono anche spostarsi in tutta l'Europa. Perciò l'Italia e noi che rimaniamo comunque in Europa. Poi ovviamente l'ambiente come collezione a Roma. Ovviamente siamo la coalizione più forte che porta avanti le questioni dell'ambiente e ovviamente anche tutti i diritti civili che stiamo già portando avanti da tantissimi anni e che comunque vorremmo continuare a portare avanti. Benissimo. Hans Heiss dell'Alleanza Verdi e Sinistra. La stessa domanda. Sì, buongiorno anche da parte mia. Io sono Hans Heiss, anch'io sono di Bressanone. Facevo parte del Consiglio Provinciale di Bolzano per ben 15 anni, dal 2003 al 2018 e mi sento nuovamente di lanciarmi in politica in questa importante partita che è sicuramente una partita fondamentale per la Repubblica e per il nostro territorio e la nostra società. È un momento cruciale anche poiché da una parte bisogna fare conti probabilmente con un governo di centro-destra, dall'altra parte siamo in una situazione di emergenza, di crisi e bisogna dare delle risposte adeguate. risposte adeguate soprattutto al caro vita, allo shock dell'energia che vediamo in questo momento. Bisogna tutelare, diciamo, i gruppi sociali più deboli tramite strumenti adeguati e questo sarà uno dei momenti principali anche della nostra azione come Verdi-Sinistra italiana. Inoltre ovviamente l'ambiente è un ambito di lavoro straordinario, soprattutto nel nostro territorio Pusteria-Vallisarco dove ci sono grosse partite che si giocano anche a livello di traffico, pensiamo all'A22, pensiamo anche alle Olimpiadi. Insomma c'è un sacco di lavoro che bisogna svolgere e portare anche a Roma come tematica, e in fin dei conti anche tutelare la nostra autonomia contro un governo di centro-destra e di centralismo con ogni probabilità. Benissimo, Marcus Falk per il Movimento 5 Stelle. Sì, come avete sentito mi chiamo Marcus Falk, ho 55 anni, tre figlie, ho tre figli con due nipotini, vivo in parte a Brunico, in parte a Vienna e mi sono presentato sulla lista del Movimento 5 Stelle anche non esendo un politico, ma vorrei dare o farvi dire alla popolazione che ci sono anche delle possibilità di farsi o di presentarsi come persona politica anche non esendo un politico. Quello che mi interessa è la politica della unificazione, quindi non quella della divisione, ma quella che unisce perché dobbiamo superare delle crisi non da sottovalutare che hanno già iniziato e che ci metteranno alla prova come tutta la popolazione, come società se vogliamo. L'obiettivo mio è sicuramente di far partecipare di più il cittadino perché non conta la singola opinione. Io non ho la soluzione definitiva che poi salverebbe tutti, anzi dobbiamo essere noi stessi che ci proponiamo a essere interlocutore per delle soluzioni che sono supportate poi da tutti i cittadini. Benissimo, Rudolf Schöpf del Movimento Vita. Buonasera a tutti. Io mi canido per la lista Vita per dare una scelta a tutte queste persone che sono contrari all'obbligo vaccinale e a quella gestione poco scientifica di questa pandemia. Nessuna lista in questa circoscrizione è stata critica o era contro queste decisioni. Come medico lavoro all'ospedale di Bressanone come psichiatra. Io stesso sono stato colpito da questo obbligo vaccinale per i sanitari, sono stato sospeso per sei mesi e tra un mese verrò di nuovo sospeso fino alla fine dell'anno. soprattutto le chiusure delle scuole, l'obbligo delle mascherine per i ragazzi, per i bambini hanno danneggiato notevolmente la nostra società futura. Dall'inizio della pandemia i media, i politici hanno diffuso solamente panico e ansia, qualcosa che è proprio il contrario per uno stato immunitario positivo. Invece di proporre cose positive, un movimento all'aperto per esempio, o di dare gratis dei prodotti tipo vitamina D, invece di test stupidi e inutili, hanno diffuso queste cose negative, distanziamento sociale, isolamento e l'istigazione alle denunce. Poi le cure precoci sono state ignorate dal Ministero della Salute, invece adesso vengono fuori studi chiari dove una terapia precoce potrebbe o avrebbe potuto salvare tante vite. Perfetto, avremo modo poi di approfondire. Giovanna Valentini, ricordiamo che sostituisce Massimo Rapi, candidato di Azione Italia Viva, quindi quali sono le priorità del terzo polo per queste elezioni politiche in Alto Adige? Sì, io sono Giovanna Valentini, candido per il Senato di Merano e come detto sono qua per sostituire un collega. Io sono laureata in giurisprudenza e lavoro da sempre in un ente pubblico e adesso da 23 anni come dirigente. Quindi non sono un politico da prima linea, ma sono stata fino adesso un braccio destro della politica, laddove ho contribuito a realizzare tanti obiettivi, di cui vado anche molto fiera, e a portare avanti appunto quelle che erano anche le nuove normative a livello nazionale che noi abbiamo dovuto applicare. Quello che per me è anche molto importante e che fa parte del mio DNA, cioè la laurea in giurisprudenza, è proprio la possibilità di applicare queste normative per tutti quelli che sono i funzionari, ma anche per quelli che sono gli imprenditori, per tutti quelli che si trovano ad avere a che fare con le stesse, perché sono anche molto complesse e molto difficili. Quindi quello che in questo momento è un po' il mio pallino, così è che potrebbe essere possibile una semplificazione che renderebbe la vita più facile per tutti noi e uno snellimento amministrativo. Perfetto, Maynard Thunwalder della SVP, prego. Sì, sono Maynard Thunwalder, originario di Falzes in Val Pusteria. Avevo l'onore di rappresentare l'Alto Adige negli ultimi quattro anni e mezzo a Palazzo Madama. Il mio tema era da sempre l'autonomia, la quale mi potevo occupare sia nella mia professione di avvocato, ma anche di un assistente universitario all'Università di Innsbruck. E sì, l'autonomia è un tema molto complesso, anche sofferto nell'ultima legislatura, devo dire, avevamo tre governi con tre coalizioni molto diverse, dove anche per motivi generali, pandemia sulla guerra in Ucraina, l'autonomia non era al primo posto delle priorità dei governi, ma ciò nonostante abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di difendere le nostre ragioni e credo che anche nella legislatura che verrà l'autonomia sarà uno dei temi principali che dobbiamo affrontare perché credo comunque che la gestione delle prestazioni dei servizi a livello decentrato, a livello locale sia la nostra forza, sia l'arma maggiore di cui noi possediamo e spero di poter dare il mio contributo per questo traguardo. Grazie. Monica Senfter per il Team K. Sì, io mi chiamo Monica Senfter, sono nativa di San Candido. Sono nata un giorno prima che è andata in vigore il secondo statuto autonomo, proprio il 19 gennaio del 72. Attualmente sono agente immobiliare, ho passato un grandissimo periodo anche nel settore alberghiero, sono stata in proprio con mia madre 25 anni in albergo, avevamo un proprio albergo, abbiamo gestito anche un rifugio del club alpino. Ho praticamente rappresentato come albergatrice anche la posizione nella giunta provinciale dei albergatori, anche nei giovani albergatori, sono felicemente sposata e ho un figlio di 12 anni. Io vorrei sostenere proprio anche le imprese piccole e medie, quello che naturalmente mi è anche molto a cuore sono invalidi, perché ho la sorella in sedia a rotelle, 100% invalide e conosco anche i problemi di loro. E nonostante tutto anche mi interessano molto i giovani. Avendo un figlio piccolo so quello che loro hanno in mente e vorrei lasciare a loro un alto alice vivibile anche per domani. Grazie. Massimo Bessone che sostituisce, lo ricordiamo, Andrea Causin che è un candidato di Noi Moderato, invece Bessone è un esponente della Lega. Sì, buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori, mi chiamo Massimo Bessone, ho 52 anni, vivo a Bressanone ma sono nato a Verona, ho sposato una pusterese e ho un figlio di 22 anni. Io sono entrato in politica perché era troppo comodo guardare la televisione e lamentarsi, volevo fare qualcosa di buono per i cittadini, pensavo, come all'inizio è stato, di lavorare per il mio comune, poi sono arrivato oltre le mie aspettative. In questo momento sono assessore provinciale al patrimonio, edilizia pubblica, catastro, libro fondiario e cerco di fare qualcosa di buono per i cittadini, credo che la politica fatta bene sia fatta per la gente ma soprattutto per le persone in categorie più deboli. Noi dobbiamo a livello nazionale fare delle misure concrete contro la crisi, a causa della guerra, della pandemia, dell'aumento dei prezzi, i cittadini non ce la fanno, i costi sono diventati sempre più alti, le busta paga rimangono uguali, dobbiamo ridurre le tasse, abbiamo pensato la flat tax al 15% prima per le imprese, le partite IVA, poi anche per i cittadini. Le pensioni e il reddito di cittadinanza, non si può andare in pensione, i vecchi non vanno in pensione e i giovani magari stanno sul divano con il reddito di cittadinanza. È giusto aiutare chi ha veramente bisogno, ma non è giusto aiutare chi non ha bisogno e bisogna rivedere il reddito di cittadinanza e chi non accetta un lavoro non deve più riceverlo. Il PNRR ha dei criteri troppo stringenti per l'alto adige e poi c'è in sicurezza e tante altre cose che parlerò poi in seguito se così ne avrò la possibilità. Grazie. Infine, Uli Maier di Freiheitlichen. Buongiorno a lei, mi chiamo Uli Maier, ho 48 anni, abito a Bolzano e attualmente sono consigliere del Consiglio provinciale e regionale. I Freiheitlichen si presentano perché hanno messo da sempre il Sud Tirolo e i cittadini in primo piano. La mia missione, soprattutto come candidata per il mio partito di Freiheitlichen, sarà di rendere più indipendente il Sud Tirolo, ma anche di renderlo più forte e di fare veramente una battaglia seria, non solo difendere l'autonomia, ma anche svilupparla per il futuro. La scelta non è stata difficile per me, ho subito detto che ci metto la faccia. Voglio veramente mettermi con tutta me stessa di prendere più competenze possibili per il nostro territorio, sia nell'immigrazione, tasse, ma anche su tanti altri temi dove noi abbiamo ormai capito che la nostra provincia deve avere più autonomia per dare risposte e anche per risolvere i problemi dei nostri cittadini anche sul piano dell'energia elettrica. Benissimo, ricominciamo il giro, abbiamo terminato, siamo un po' lunghi ma potremmo anche recuperare e ripartiamo da Renate Prader del Partito Democratico. Ecco, tra i temi che lei ha citato e che fanno parte anche della sua carriera politica c'è quello della scuola. Come cambierebbe la scuola attualmente a livello nazionale e magari anche a livello provinciale? Brevemente. Io, come appena detto, sono insegnante nella scuola professionale e vedo che il sistema duale funziona molto bene e che viene visto anche nel resto dell'Italia come una grande opportunità che noi abbiamo qui in Alto Adige e che viene sempre cercato di copiare. Io penso che anche per il resto dell'Italia dovrebbe essere un modello che è applicato. Poi il giovane oggi ha purtroppo il problema che spesso quando vanno fuori a studiare, perché in Italia non riescono a entrare, che ci sono degli esami troppo difficili e c'è una difficoltà di entrare nell'università in Italia che bisogna cercare di riuscire a rendere accessibile per tutti l'università in Italia e soprattutto poi dopo anche quando invece i ragazzi vanno all'estero o possono studiare anche in Europa, che sia anche possibile tornare e poi dopo esprimere le loro capacità che hanno dopo qui in Italia e anche in Alto Adige. Benissimo, grazie. Hans Sais, esponente dei Verdi, i Verdi Alto Adesini sono un partito diverso rispetto ai Verdi Nazionali e la domanda che viene da fare è a quale tipo di governo darete la fiducia? Se dovrete trovarvi a votare a Palazzo Madama, lei per esempio, darebbe la fiducia a quale tipo di governo non solo come coalizione ma anche come contenuti, come temi? Ma ovviamente noi daremo la fiducia a un governo che si ispira a valori di centro-sinistra che rispetti la Costituzione, i diritti e anche i valori dell'ambiente e i valori sociali. Ovviamente è questa la nostra mission di fondo e vediamo come anche le nostre tematiche di fondo l'ambiente e il clima adesso si fanno anche sentire pesantemente. Penso che in questo ambito ci sia da fare molto per l'Italia, l'Italia ha delle grandissime potenzialità per il settore rinnovabile ma anche sul nostro territorio ci sono ancora delle possibilità inesplorate soprattutto per quando riguarda l'idroelettrico e ci sono anche le possibilità forse, speriamo, e su questo lavorerei di ridurre anche le tariffe di elettricità anche per la popolazione di questo territorio. Ovviamente è un bellissimo paesaggio nel quale viviamo e va tutelato in tutti i modi e soprattutto in ambito di traffico, in ambito di mobilità bisogna far tantissimo per aumentare la qualità della vita e allo stesso tempo anche rispettare i parametri climatici che hanno bisogno di essere sostenuti. Questo è molto breve, diciamo, una prospettiva che purtroppo penso il futuro governo non rispetterà più di tanto pertanto sono convinto che saremo a un'opposizione anche agguerita. Benissimo. Passiamo a Marcus Falck del Movimento 5 Stelle. Un volto noto e la domanda è un po' di obbligo riguarda la politica sanitaria. Cosa c'è che secondo lei che non è andato o cosa magari è andato invece bene nella gestione della sanità e cosa cambierebbe se lei fosse eletto a Palazzo Madama quindi con il suo contributo da senatore? Per la sanità abbiamo davanti da noi un monte di problemi ma non legato a come gestiamo la sanità adesso ma perché andiamo incontro a un cambiamento demografico. Noi dobbiamo gestire nei prossimi 30 anni una popolazione che sarà meno sana dove ci saranno più malati e ci abbiamo però meno personale a coprire il fabbisoglio. Quindi stiamo davanti a una esperienza mai fatta in nessuna parte del mondo come la pandemia va superata solamente assieme e quindi dobbiamo già prepararci adesso di avere da una parte delle idee chiare ma di essere anche sinceri a quello che magari si dovrebbe rinunciare in un certo futuro e a come magari possiamo evitare certi problemi di gestione sanitario. Benissimo, Rudolf Schöpf ha già accennato prima ma torniamo sul tema un po' chiave del vostro movimento che è nato sull'onda, vorrei ricordo del no all'obbligo vaccinale. Come proseguirebbe lei questa battaglia al Senato nella nuova legislatura a livello nazionale? Sicuramente abolirei tutti gli obblighi vaccinali per esempio anche quelli del 2017 della Lorenzin dove ha inserito 10 vaccinazioni per i bambini di pochi anni, pochi mesi e riorganizzare anche tutto il sistema sanitario per esempio negli ospedali abolire i pagamenti, i contributi secondo le DRG, queste diagnosi secondo l'ICD9 quella classificazione dove quasi viene stimolato la medicina di dare diagnosi molto più pesanti di fare interventi che spesso non sono necessari così come è anche stato con la gestione della pandemia all'inizio soprattutto dove le persone venivano intubate subito e tanti morti sono stati provocati da questo trattamento forzato e spesso non sempre necessario. Benissimo, grazie quindi passiamo a Giovanna Valentini che ricordiamo sostituisce Massimo Rapi candidato del Terzo Polo di Azione e Italia Viva e parlerei di autonomia che non fa in realtà parte del programma nazionale del Terzo Polo ma qui è un tema fondamentale come si muoverà il vostro movimento a livello nazionale nella prossima legislatura? Sì, una novità mi è stato detto che il nostro leader Calenda farà a breve un messaggio dove parlerà proprio dell'autonomia però intanto e non so bene quali saranno i contenuti ma comunque intanto dico una mia personale opinione che ritengo comunque essere sicuramente sull'onda di quello che dirà anche Calenda e cioè noi siamo assolutamente favorevoli all'autonomia che ha creato un grande benessere per tutti i nostri cittadini e penso che questa autonomia vada sicuramente anche potenziata in tutti i suoi dettagli perché ci sono anche dei settori dove c'è anche qualcosa da fare e da migliorare dall'altra parte però bisogna dire che se ad esempio io dovessi essere eletta andrei in Senato quindi andrei in Italia e questo per me sarebbe anche molto importante perché vorrei quindi sicuramente dare un ulteriore valore laddove possibile alla nostra autonomia però anche portare questo esempio di autonomia per il resto del paese laddove ho letto appunto nelle 64 pagine del programma di azione Italia Viva che toccano un po' tutti quelli che sono gli argomenti di cui hanno anche parlato i colleghi che appunto ecco questo paese diciamo presenta anche delle grandi defiance ultimamente e noi come Alto Adige e con le nostre normative con i risultati che abbiamo avuto ci potremmo anche proporre come esempio di best practice Benissimo Maynard Dunwalder l'SVP ha spesso dato la fiducia ai governi questa volta a quali condizioni darete la fiducia e nel caso di un governo di centro-destra potreste comunque dare la fiducia a un governo di centro-destra? Beh come SvP noi abbiamo sempre valutato ciascun governo in base a due requisiti in base a due presupposti per noi indispensabili, imprescindibili il primo era ovviamente la conferma e lo sviluppo dell'autonomia da un lato e poi dall'altro un atteggiamento comunque pro-europeo del quale ciascun governo secondo noi dovrebbe farsi proprio e quindi noi valuteremo anche ciascun governo che si formerà in base a questi due punti vediamo adesso quale sarà l'esito delle elezioni sono un po' contrario a discutere già prima di un risultato di cui comunque non sappiamo ancora quale sarà e quindi vedremo noi siamo comunque sempre abituati alla concretezza a prescindere da battaglie ideologiche cerchiamo di portare sempre a casa un risultato concreto abbiamo i nostri temi, i nostri punti dell'autonomia abbiamo un bel programma da affrontare e quindi speriamo che portiamo a casa qualcosa Benissimo Monica Senfter tra i temi con i quali lei è presente nel dibattito politico c'è appunto quello della disabilità lo ha accennato e come intende portare avanti questo tema nel caso lei fosse eletta al Senato? Sì, rafforzare praticamente anche l'autonomia per delle persone che non hanno dietro una lobby o qualcuno che li sostiene molto io penso che anche qui è molto importante prendiamo per esempio la stazione di San Candido che stiamo discutendo da dieci anni per adattare i marciapiedi e le pedane per entrare in treno questo il sindaco sarebbe molto favorevole però non è mai riuscito a farlo perché la competenza di Roma è dell'RFI e questo praticamente non può essere come anche il sostegno dei piccoli ospedali della periferia come San Candido perché abitare naturalmente in montagna è tutto diverso come abitare a Roma e anche qui devo rafforzare l'autonomia e vedere di portare avanti proprio queste cose Benissimo, Massimo Bessone che ricordiamo sostituisce Andrea Causin candidato centrista ha citato alla fine del suo precedente intervento la sicurezza è un tema attuale anche in una provincia come quella di Bolzano che ad esempio a Roma dove andrà il senatore del collegio non viene percepita come una provincia pericolosa come una zona a rischio dal punto di vista della sicurezza Sì, è vero l'Alto Alge era sinonimo di sicurezza fino a qualche anno fa adesso a causa di mancanza della certezza della pena di immigrazione incontrollata è cambiata radicalmente anche Bressanone stessa della quale noi facciamo parte del collegio in stazione, in determinate piazze si sente che manca questa percezione di sicurezza e i cittadini non si sentono più sicuro ci vogliono leggi chiare, concrete ci vuole una certezza della pena perché chi sbaglia deve pagare ed essere da monito degli altri affinché non sbaglino più non si può più andare avanti faccio un esempio io sono assessore al patrimonio a Bolzano in piazza Silvio Smagnago le persone che andavano a lavorare le donne soprattutto nel periodo invernale che viene buio presto non si sentivano più sicure io mi sono speso per trovare un metodo per poter risolvere il problema in altri luoghi dove la competenza è del sindaco c'è ancora questa mancanza di sicurezza all'interno della piazza le donne possono andare sicure perché abbiamo messo una vigilanza ci vogliono più forze dell'ordine non devono stare negli uffici devono girare perché il cittadino deve sentirsi sicuro le donne devono girare giorno e notte senza aver paura di subire violenza Benissimo, grazie Ulli Maier infine anche lei vorrei chiedere se lei fosse eletta al senato a che tipo di governo darebbe la fiducia se mai dovesse dare la fiducia a qualche governo diciamo espressione diciamo delle maggioranze di Roma e a quali condizioni? Io sinceramente sono stata sempre dell'opinione che qualsiasi rappresentante su tirolese sia in senato che al parlamento dovrebbe rimanere fuori dai blocchi perché è molto importante per noi su tirolesi di dialogare con chiunque indipendentemente chi sta al governo per un su tirolese deve essere sempre importante avere diciamo rapporti buoni o almeno avere la base di di avere una comunicazione sia con la sinistra che con la destra per noi è stato sempre importante rimanere blocchi e non farsi diciamo mettersi in mezzo a questi giochi del palazzo questo a noi non può interessare poi è anche da dire su tanti temi principali è chiaro che i Freiheitlichen come partito di centro-destra siamo molto più vicini ai partiti di destra però voglio sottolineare che sui temi dell'autonomia e del su tirolo non ci sono compromessi per noi su questo non siamo diciamo disponibili a mettere un passo indietro anzi noi anche con un governo di centro-destra vogliamo portare a casa più competenze del momento attuale dobbiamo per forza sviluppare questa autonomia che negli ultimi anni è stata sempre più diciamo lasciata così abbiamo perso competenze che una volta abbiamo già avuto nelle nostre mani benissimo grazie ricominciamo il giro con Renato e Prader e a questo punto non ci possiamo esimere dal trattare il tema dell'autonomia anche il Partito Democratico è stato chiamato in causa c'è un po' uno scontro tra Sfaupe e destra c'è stato ma anche il Partito Democratico è stato chiamato in causa come affronterete questo tema innanzitutto vorrei ancora dire una cosa visto che prima qualcuno dei miei colleghi ha detto che vincerà chiunque non si sa ancora chi vincerà perché il 25 si vota anche se i sondaggi erano da una certa parte noi comunque siamo il secondo partito e spero che comunque anche tutti gli indecisi che ce ne sono tanti e anche tante persone che pensano di non andare a votare comunque vadano a votare e che i sondaggi che ci sono stati fino adesso magari non saranno veramente l'esito del voto del 25 settembre e devo dire un'altra cosa ancora visto che il mio collega di Bressanone ha detto che magari uno si potrebbe sentire meno sicuro a Bressanone Bressanone secondo me è un esempio di sicurezza di integrazione anche dei nuovi cittadini e dei immigrati che sono stati accolti a Bressanone io non ho paura di uscire di casa a Bressanone sicuramente non c'è il problema della sicurezza e volevo solo ribadire questa cosa sull'autonomia ovviamente noi ci siamo ci siamo sempre stati avevamo anche il nostro rappresentante Bressanone Gianclaudio che sempre si è battuto per l'autonomia insieme all'ESFOP perciò per noi le scuole la sanità il servizio pubblico in alto alge funzionano grazie anche all'autonomia la convivenza o comunque dei gruppi linguistici per noi è una prima cosa che sicuramente ancora con magari appunto torno alle scuole ci vorrebbe delle scuole dove ci sono tutti i gruppi linguistici come un modello europeo dove magari viene anche nel corso della formazione vissuto di più la convivenza benissimo grazie Hans Ais dell'alleanza Verdi e Sinistra e ne ha fatto accenno nel suo precedente intervento la politica energetica anche questo è un tema caldo a livello nazionale e anche a livello locale quali sono i no e i sì che i verdi nazionali i verdi altoatesini sono disposti a dire nella prossima legislatura la politica dell'energia è sicuramente una sfida centrale per il futuro da una parte per il clima ma soprattutto anche per ogni singola persona per ogni singola famiglia che deve fare i conti col bilancio energetico penso che l'Italia che è l'Alto Adige su Tirol abbia dei requisiti ottimi per portare avanti un progetto energetico che va a separarsi dall'energia fossile che abbiamo visto rappresentata soprattutto dal gas proveniente dall'unione dall'ex unione sovietica dalla Russia e penso che noi dovremmo svolgere un altro percorso che porta soprattutto verso le energie rinnovabili con una forte chiusura verso il nucleare che nonostante venga messo in augi adesso rappresenta dei rischi abbastanza gravi che vediamo anche adesso realizzarsi a Saporiscia in Alto Adige avremo la possibilità di aumentare ancora il potenziale dell'energia idroelettrica soprattutto nei grandi bacini nelle grandi dighe c'è un ampio potenziale da utilizzare e creare a livello locale delle comunità energetiche in grado anche di abbassare i prezzi per ciascuna famiglia insomma in questa direzione riusciremo da una parte a migliorare i bilanci delle famiglie e dall'altra parte andare verso un futuro sempre più clima neutrale come anche proposto dal piano climatico futuro della provincia di Bolziano grazie Marcus Falk del Movimento 5 Stelle un breve accenno anche da parte sua alle questioni energetiche e al cambiamento climatico che fa parte degli argomenti che lei tratta per i quali forse è meno conosciuto rispetto alla sanità e anche la democrazia diretta che è un po' un cavallo di battaglia invece del Movimento 5 Stelle prego infatti siccome faccio parte del Movimento 5 Stelle quel programma ha più di 5 stelle e quindi è indirizzato sia sulla transizione energetica come anche sulla partecipazione diretta del cittadino come anche il sociale come anche una parte in rosso come anche una parte in verde come anche una parte in blu e giallo dobbiamo però non dimenticarci che stiamo parlando dei parlamentari quindi la politica locale è una parte lì fa parte chiaramente l'autonomia ma non sono dell'opinione che ci serva un sud terolese doc perché credo che quello non esista lo sta cercando Putin al momento il russo doc e fa solamente casini quello che ci serve qui in Alto Adige è una chiarezza un'identità sappiamo che abbiamo tre gruppi linguistici ognuno ha gli stessi diritti e come detto quel sud terolese doc a me io non l'ho ancora conosciuto per le parlamentari come stavo dicendo la democrazia diretta io la vedo come unica possibilità di rinnovare la politica facendo dando più voce al singolo cittadino benissimo grazie Rudolf Schopf di Evita e parliamo di autonomia anche in questo caso non fa parte di uno dei temi che è nel DNA del movimento almeno all'inizio ma mi interesserebbe sapere qual è la sua posizione sull'autonomia ma sicuramente l'autonomia in Alto Adige si dovrebbe allargare non solo all'autonomia energetica per esempio qui cito l'Alperia che fino adesso non è mai riuscito o non si è voluto dare ai cittadini dell'Alto Adige un prezzo più conveniente ma io allargherei l'autonomia anche a tematiche più importanti tipo la sanità l'autonomia della scuola l'autonomia delle forze dell'ordine questo sarebbe i punti da inserire al Senato a Roma benissimo grazie Giovanna Valentini se vuole fare ancora un accenno all'autonomia ma mi interesserebbe anche sapere dal punto di vista delle alleanze delle alleanze politiche del sostegno possibile ai governi futuri qual è la sua posizione spesso i movimenti in Alto Adige hanno delle posizioni diverse rispetto a quelle che hanno in altre regioni no ancora non cioè assolutamente non posso parlare di alleanze sono anche no assolutamente assolutamente no quindi né alleanze né insomma altri altri movimenti o altri partiti a cui sono sono contrari a questo nella maniera più assoluta non lo so credo se non ecco quello che invece voglio dire è che in realtà a parte tutti i sondaggi che mi mandano che mandano anche a me insomma quotidianamente però il voto e che forse diciamo i sondaggi possono anche come dire dare dare un'idea di base di quella che può essere l'orientamento politico in questo momento tuttavia insomma il voto si fa nel silenzio della propria cabina ogni cittadino lo fa e quindi non possiamo assolutamente fare come dire fare delle previsioni in questo momento si vedrà benissimo grazie Maynard Dunwalder torniamo a lei in un altro collegio in quello di Bolzano e Bassa Tesina c'è stato un appello forte anche da parte dell'Omanna al voto italiano ora adesso è un partito di raccolta etnico non italiano è una opzione valida anche per l'elettorato di lingua italiana del collegio di Bressanone beh io ritengo che anche l'elettorato italiano apprezzi molto il benessere che trova nella nostra provincia anche i servizi le prestazioni che funzionano tutto il clima che secondo me anche nel corso degli anni è molto migliorato e quindi credo che anche un elettore italiano possa dare un voto all'esfrape che comunque ha partecipato in modo diciamo anche determinante negli ultimi anni allo standard di vita a cui siamo adesso qua abituati del quale possiamo godere faccio un piccolo supplemento a cui mi riferivo la leader di Fratelli d'Italia Meloni ha detto in sostanza che l'autonomia ha spesso avvantaggiato alcuni e non altri beh bisogna vedere come è nata l'autonomia l'autonomia è nata a tutela dei gruppi linguistici tedesco e ladino e quindi è chiaro se guardiamo lo statuto di autonomia che ci sono tante disposizioni che appunto tutelano questi due gruppi linguistici poi che comunque ci sia anche un complesso di norme che vada anche a vantaggio del gruppo linguistico italiano è evidente però non bisogna dimenticare le radici dell'autonomia e il motivo per il quale questa terra gode dell'autonomia Perfetto Monica Semfter ne ha fatto accenno anche lei nella precedente risposta lei conosce anche il mondo del turismo e quello delle aziende e cosa hanno bisogno le piccole imprese in questo settore quello del turismo ma anche in altri Io vedo che proprio le piccole aziende che la maggior parte in Alto Alice o Medi anche sono gestite da famiglie hanno un grandissimo problema adesso con il caro di energia specialmente anche nel settore alberghiero perché i costi di energia naturalmente nei ristoranti e alberghi sono molto elevati l'Alto Alice producendo un sacco di energia avendo anche una posizione un po' pionieri di energia anche con i teli riscaldamenti dovrebbe usufruire di più essere anche più autonomo da Roma per garantire ai suoi cittadini anche un po' un'agevolazione poi quello che è un grandissimo problema anche per le piccole medie aziende con le quali parlo spesso è naturalmente la burocrazia e l'alta tassazione e questo qui Roma deve fare qualcosa perché se no tanti chiuderanno oppure si spostano all'estero Benissimo grazie Messone parliamo di autonomia anche con lei prima abbiamo parlato di sicurezza è uno dei temi che ha fatto discutere anche all'interno del centro-destra e si chiede in qualche modo si chiedono delle garanzie che anche il centro-destra si faccia garante dell'autonomia e alcuni hanno dei dubbi si sente di rassicurare ma assolutamente sì vede l'autonomia e il federalismo sono parole a noi care quando penso all'autonomia io penso sempre a un fiore che va coltivato fatto crescere e fatto splendere questo fiore fa parte di un microcosmo che è l'Alto Adige dove ad esempio mio figlio a due anni non sapeva che ci fossero più lingue ma già ne parlava due grazie alla nostra autonomia che tutela i gruppi linguistici è vero tedesco ladino ma anche gli italiani ne hanno grandi benefici le faccio un esempio anche le competenze per le quali io opero come assessore come la costruzione delle scuole provi a guardare le scuole in Alto Adige come sono moderne funzionali sicure rispetto alle altre regioni l'autonomia noi aiuta tantissimo e chi meglio che il territorio sa giudicare sa operare per il bene dei propri cittadini anche per quello che controlla il volontariato le strutture sanitarie e viva l'autonomia noi ne siamo partecipi lavoriamo per questa autonomia e ne saremo sempre garanti quindi tutti i partiti della coalizione saranno ovviamente chi più chi meno ma saremo noi a convincere proprio sul territorio a fargli capire la bontà dell'autonomia l'autonomia ci è invidiata da tutto il resto d'Italia dalle regioni del nord che si battono per avere l'autonomia noi abbiamo la bravura la fortuna di averla e dobbiamo sviluppare l'autonomia una cosa importantissima che garantisce il benessere dell'Alto Adige benissimo infine Ulli Maier fra gli altri siamo di nuovo e mi interessava sapere se tra gli provvedimenti che sono stati approvati negli ultimi anni da senatrice quali abrogherebbe quali eliminerebbe ma io sicuramente eliminerei il reddito di cittadinanza subito perché per me questo non è una richiesta diciamo non è mai stata una richiesta del nostro partito ci battiamo con forza per coloro che vanno ogni giorno a lavorare e che tuttavia ottengono sempre meno dal loro lavoro poiché la pressione fiscale aumenta e i benefici diciamo dell'assistenza sociale non vanno a colore che lavorano e che fanno progredire il nostro paese questo sarebbe per me il punto numero uno e poi abbiamo parlato e sentito parlare di sicurezza questo anche per il mio partito è sempre stato un tema molto importante però bisogna dire anche che in un secondo punto abbiamo bisogno veramente delle competenze noi su questo tema abbiamo poche competenze abbiamo bisogno di molto più uomini delle forze dell'ordine anche donne delle forze dell'ordine come è stato già detto le forze dell'ordine meno magari farli restare in ufficio ma abbiamo bisogno veramente per i controlli lungo le strade nei centri ormai nei centri delle nostre città e abbiamo leggi che però non possono essere diciamo garantiti per il cittadino perché abbiamo la mancanza proprio del personale anche in giustizia non serve avere una legge nero su bianca anche parlando del codice rosso per esempio contro la violenza delle donne che poi guardando tutti i casi che succedono quasi ogni giorno anche in provincia ma soprattutto sul territorio statale possono capitare perché manca proprio il personale e anche qua a Bolzano nel palazzo della giustizia benissimo grazie il tempo a nostra disposizione è terminato grazie ai candidati del collegio senatoriale uninominale di Bressanone ricordiamo il prossimo appuntamento sarà già domani con il collegio senatoriale di Merano per questo primo appuntamento con la tribuna elettorale è tutto a tutti voi l'augurio di una buona serata grazie a tutti